1 e 2, avanti suono con il sinistro 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 con i fianchi facciamolo fronte 4, 1, 2, 3 con i fianchi continuo a disegnare l'8 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 questa è la base, è proprio il movimento base di lumba quando faccio la base in avanti non indietro c'è un'azione che si chiama check praticamente faccio il passo e col ginocchio della gamba che sta dietro blocco il movimento perché devo cambiare praticamente direzione quindi questo ginocchio mi aiuta poi a tornare indietro 2, 3, 4, 1 facciamo insieme 4, 1 2, 3, 4, 1 in avanti col check 2, 3, 4, 1 ancora 2, 3, 4, 1 check 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 check 3, 4, 1 ancora 2, 3, 4, 1 un check 2, 3, 4 ancora 2, 3, 4, 1 incastro incastro proprio chiudo la gamba la gamba rimane tensa avanti qua incastro solo il ginocchio e solo l'indietro ancora 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 quindi facciamo 3 basi un giro le cucaracce laterali i giretti e poi continuiamo